Una cosa è certa, per Bari Avellino, gara valida per il terzo turno di Coppa Italia, il numero degli spettatori sarà maggiore. È stata infatti superata quota 11.500 raggiunta nella gara della scorsa settimana. I baresi dunque ci sono e vogliono sostenere anche ad agosto ed anche nelle primissime fasi della competizione gli uomini di Davis Mangia. Il tecnico bianco-rosso, scontata la squalifica, tornerà a sedere regolarmente in panchina. Sarà a disposizione anche Marino Defendi, mentre saranno out Ciccio Caputo e Stefano Sabelli. Quest'ultimo sarà sostituito da Salviato ed è molto probabile che in difesa ci sia un altro cambio. Supponiamo che Camporese possa prendere il posto di Rossini. Supponiamo perché Mangia non ha voluto sbottonarsi sulla formazione. Sono tutti titolari per l'allenatore barese che risponde anche alle domande che riguardano il portiere. Se dovesse giocare nuovamente Donnarumma, non significa che Guarna diventi necessariamente la riserva. Piuttosto si inserisce Donnarumma perché lo si conosce di meno e la Coppa Italia dà la possibilità di sperimentare. E infine Mangia parla del suo ingaggio a Bari. Il tecnico si è decurtato lo stipendio non per fare un favore al club di Paparesta, ma semplicemente perché ha scelto una piazza che sta programmando qualcosa di importante. Domani sera alle 21 sarà per lui il debutto ufficiale sulla panchina del Bari. Grazie.